buonasera siamo collegati questa sera per un'intervista con un autore nuovo di libri un autore che è arrivato all'opera prima esordisce nel mondo dei libri e si chiama non mi ricordo il tuo nome perché non ti conosco scusami anco franco fracassi franco fracassi ovviamente la battuta è doverosa perché è una macchina che sforna libri in quantità incredibile ma tutti di altissimo livello perché se scrivesse semplicemente delle scemenze non staremmo qui a intervistare ogni due mesi allora l'ultimo libro di cui vogliamo parlare l'ultimo libro di di franco che è un libro scritto a quattro mani con suo padre si intitola sotto la notizia niente il virus la guerra la crisi economica come il potere manipola in media e le nostre coscienze viaggio nel mondo dell'informazione e dei suoi meccanismi io trovo che sia un libro geniale dal punto di vista dell'idea perché tu affronti con la scusa diciamo di parlare dell'informazione in realtà fai un escurso storico degli ultimi 50 anni di tutti i fatti più importanti c'è dentro il vietnam l'omicidio kennedy timisoara la prima guerra del golfo la seconda il covid l'ucraina c'è dentro tutto però attraversato traversalmente trasversalmente dal dal criterio dell'informazione era un'idea che è nata così un'idea originale o è venuto fuori automaticamente questa cosa sì l'idea è nata così anche perché se no non si capisce come funzionano i meccanismi dell'informazione se non non si danno esempi pratici insomma esempi che le persone possono diciamo ricordano e quindi possono confrontare quello che loro hanno percepito e quello che loro conoscono con la realtà dei fatti ok allora il libro ovviamente attraverso come ho detto decine decine di capitoli della storia recente e differenti c'è secondo me un argomento fondamentale che tu hai messo alla fine ma del quale invece vorrei parlare all'inizio perché secondo me fa da da cappello introduttivo a tutto quello che l'argomentazione e cioè il capitolo dedicato a udo urscotte il famoso tristemente famoso giornalista tedesco che aveva denunciato le pressioni e che riceveva dai servizi di vari paesi per pubblicare le notizie che gli dicevano loro e che purtroppo è morto in circostanze come si suol dire mai chiarite fino in fondo leggo il passaggio del tuo del tuo del tuo libro perché non c'è niente di più efficace che come tu l'hai scritto in tre paragrafi allora vi ricordate di udo urscotte e della sua rivelazione riguardo i giornalisti comprati da washington il reporter tedesco disse accusando se stesso anche i servizi tedeschi sono venuti mi hanno chiesto di scrivere su geddafi e la libia ma io non avevo informazioni me le hanno date loro e io ho scritto sulla base delle loro fonti non verificate ho detto che geddafi stava cercando di costruire una centrale segreta per la produzione di gas letali ma io non sapevo nulla di quello me l'hanno detto loro e poi scrivi riguardo alle pressioni che i reporter sono costretti a subire dal potere diceva urscotte io so cosa succede se non vuoi collaborare con loro qualsiasi giornalista che parlasse di questo problema verrebbe immediatamente licenziato per sei volte la mia casa è stata perquisita da cima a fondo perché lo stato accusato di rivelare segreti di stato non si tratta solo del frankfurter allgemeine questo è l'intero sistema che è corrotto fino in fondo il reporter aveva fatto nomi tanti nomi di colleghi di tanti paesi diversi venduti ai servizi aveva elencato fatti e circostanze spiegato i meccanismi mostrato prove documentali nulla nessuna reazione e nemmeno nessuno scandalo molto semplicemente quanto raccontato rimase nel cassetto delle informazioni certo degni di essere divulgate dalle tv e dai giornali ma nessuno aprì mai quel cassetto udo ufcott fu trovato morto nella sua abitazione il 13 gennaio 2017 prima di morire aveva annunciato che stava lavorando a un libro con ancora più fatti e prove specifiche sulla congiunzione fra giornalisti autorevoli e agenzie di intelligence le autorità tedesche dichiararono che la morte del giornalista era stata causata da infarto senza alcuna autopsia urscotte fu cremato togliendo così per sempre ogni possibilità di indagini più approfondite come mai l'hai messo la domanda è come mai l'hai messo alla fine nel senso che sembra quasi un appendice è secondo me la chiave di tutto perché allora se è così tutto quello che ci viene raccontato dei fatti importanti che riguardano la storia evidentemente è controllato sì ci sono io nel libro provo a spiegare i tanti metodi che si usano per controllare questi fatti diciamo il metodo più più diretto quello più facile da manipolare è avere giornalisti o al libro paga oppure minacciati in qualche modo esiste esistono tante categorie di giornalisti ci sono i giornalisti che sono che hanno un doppio stipendio sono pagati da qualcuno o quelli che comunque vengono sono sotto ricatto insomma sono costretti a fare certe cose esistono i giornalisti che diciamo vengono lusingati perché riescono a stringere un rapporto di lavoro con delle fonti molto autorevoli che ovviamente lo scambio è io ti do ti faccio fare uno scoop che non so uno scoop all'anno magari vinciva anche il pulitzer grazie allo scoop che ti faccio fare in cambio tu mi passi mi pubblichi qualsiasi cosa io ti passo e quindi i giornalisti fanno carriera in questa maniera e poi esistono invece le categorie dei giornalisti che sono incapaci perché ce ne sono tantissimi purtroppo ci sono giornalisti che non hanno incapaci nel senso non nel senso cattivo del termine nel senso che non sono mai stati abituati a fare il loro mestiere perché il mestiere moderno di giornalista è un mestiere principalmente da scrivania una sorta una sorta di impiegati che ricevono le agenzie di stampa e tutt'al più le trasformano lavorandoci sopra in articoli ma che non hanno non non fanno nessuno sforzo per approfondire per verificare e sono giornalisti che quando vanno alle conferenze stampa si mettono d'accordo tra di loro su quali domande fare cercano di non scrivere nulla che non sia scritto anche da altri e di solito non fanno domande che possono indispettire eh il personaggio che tiene la conferenza stampa anche solo perché non gli non gli vengono in mente queste domande perché non sono abituati a fare domande sono abituati semplicemente a riportare quello che gli viene detto in maniera pedisse qua eh dopodiché ci sono eh anche giornalisti che eh che non comprendono il materiale che hanno tra le mani che invece questi sono proprio eh ignoranti di altro genere insomma è gente che non eh che nella vita non ha non ha accumulato nessun tipo di cultura il giornalismo è un mestiere ma è a necessità della eh del di conoscenze che ti permettono di interpretare i fatti sono giornalisti che hanno degli scoop tra le mani e non se ne rendono proprio conto perché non hanno proprio la struttura culturale sufficiente per poterlo fare e sono tutte quante queste cose insieme che ehm che permettono al potere di fare eh di controllare l'informazione e eh manipolare l'opinione pubblica poi come la manipolano quella è un'altra questione sono tanti altri metodi per farlo quindi mi stai dicendo o sono diciamo usiamo termini familiari deficienti nel senso che deficio non gli manca proprio la struttura mentale la struttura eh sì la struttura culturale gli manca il background culturale oppure se sono bravi vengono coopted cioè eh assorbiti messi a libro paga e ovviamente minacciati se per caso vogliono gli è rimasto in testa l'idea di essere indipendenti è così sì sì ma c'è la terza categoria di quelli che non vengono pagati cioè che io come ho spiegato prima vengono c'è una sorta di scambio io io do io faccio un favore a te perché ti faccio fare carriera non perché io perché faccio pressione sul sul tuo direttore perché ti do delle informazioni che ti permettono di fare carriera di diventare famoso e anche ricco tu in cambio quindi io non ti do una lira cioè non esiste è semplicemente un rapporto con la fonte quindi non è neanche scusa finici per esempio la vicenda delle armi di istruzione di massa in Iraq eh avvenne eh insomma il la la notizia venne diffusa dal New York Times all'epoca e non venne diffusa da una da una giornalista che era pagata venne diffusa da una giornalista che divenne famosissima grazie a questo e in cambio eh il ehm lei accettò di continuare a pubblicare qualsiasi cosa gli passasse la casa bianca in quel caso ecco qui infatti c'è un esempio nel libro che mi ha fatto venire in mente parlando di premio Pulitzer menzogne di guerra in Bosnia stupri di massa e lager raccontati da due premi Pulitzer Roy Gatman di Newsday e John Burns del New York Times sì esattamente esattamente lo raccontarono e questi ehm questi racconti fecero sì che la Nato intervenì militarmente in Bosnia e quindi si risolse la guerra di Bosnia grazie a questi racconti quindi questi racconti cambiarono la guerra e loro vinsero ovviamente il Pulitzer perché raccontarono cose che diciamo definite nella categoria degli scoop certo quindi io praticamente io invento la notizia se tu la dai io poi ti ti do il Pulitzer per averla data perché è un grande scoop cioè il fatto che sia falsa non è più importante siccome è importante per me la notizia allora tu per favore la dai poi io ti do il Pulitzer per rendere importante la notizia che tu hai dato sì è fantastico cioè è un autopoiesi è un autopoiesi della della celebrità a questo punto dunque senti eh io ho messo qui una serie di concetti che tu affronti all'inizio del libro e che eh io li ho messi tutti insieme poi tu fammi un commentino veloce su ciascuno come perché è stato creato il termine complottista termine complottista affiancato a negazionista come perché è stato creato il termine terrapiattista e perché il concetto di fake news è da rifiutare perché è stato creato dallo stesso soggetto che ha creato il termine complottista allora qui sarebbe da parlare un pochettino però cerco di di essere breve ehm il termine complottista è un termine che che è servito a chi l'ha creato ovvero un'agenzia di comunicazione si chiama Ruder Finn una delle più importanti agenzie di comunicazione del del mondo che lavora tra le varie cose per il per la casa bianca il pentagono il dipartimento di stato ehm il termine complottista è stato creato sulla base di una richiesta da parte dell'amministrazione ehm Clinton in quel caso perché eravamo negli anni novanta e in cui si chiedeva a questa agenzia di di trovare un escamotage per far sì che i giornalisti non ponessero domande e che non ci fosse particolare di senso quando l'amministrazione ehm della casa insomma l'amministrazione americana eh diciamo raccontasse qualche storia facesse eh diciamo prendesse un ehm un punto di vista su una vicenda qualsiasi che veniva raccontata e e questo termine secondo me è chi l'ha pensato è un genio io sono convinto di questo perché ha permesso di lasciare totalmente inalterato eh tutto il la costruzione del democratica del diritto che c'è in occidente quindi la libertà di parola e tutto il resto eh quindi diciamo che formalmente nulla è cambiato noi viviamo in paesi democratici non viene tolta la libertà di parola non viene ucciso nessuno non viene fatto nulla a nessuno l'unica cosa che viene fatta viene tolta la libertà di di essere anzi il diritto di essere ascoltati perché chi è complottista è una persona che non è degna di essere ascoltata è una persona che eh dice che crede nelle favole perché poi nel libro racconto spiego come questa parola è entrata nel linguaggio comune e ed è entrata nel linguaggio comune attraverso i film e chi crede nei film è come chi crede nei romanzi cioè una persona che che vive in un altro mondo in un suo mondo parallelo non ha che 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 crede appunto a delle cose che non esistono può credere che ne so al al dio del tuono piuttosto che al ehm che alla presenza de degli alieni sulla terra sotto forma di rettiliani no allora il essendo il complottista una persona del genere per definizione non lo ascolto e quindi come se guardassi il televisore e togliessi l'audio cioè il complottista è una persona afona parla ma non emette suoni ed è eh perché dico che è una cosa geniale perché lasciando inalterato inalterato il sistema eh democratico in realtà tolgo spazio alla democrazia cioè elimino il dissenso e chi non viene ascoltato che è ancora peggio una cosa è quando ti viene dato il diritto di parola puoi protestare dicendo guardate questa persona è un autocrate mi ha impedito di parlare ma se ti tolgono la possibilità di essere ascoltati non puoi dire non mi ascolta nessuno perché fa ridere ovviamente no e quindi eh tu eh lasci le persone fare quello che vogliono fare gli fai fare il loro lavoro eh le loro inchieste le fai raccontare le cose in giro per il mondo ma semplicemente queste cose non arrivano a nessuno ed è eh e nessuno può protestare per questo perché formalmente il diritto rimane inalterato e al concetto di complottista si accompagna il concetto di fake news e perché il concetto di fake news è importante perché ehm allora le fake news sarebbero le notizie false detto in altri termini no? Allora le notizie falsi sono sempre esistite sempre non è una novità eh però venivano trattate come sono sempre sai trattate cioè quando si scopre che la notizia è falsa eh lo si scopre perché c'è stata un'inchiesta che ha dimostrato questo o perché ci sono degli elementi di prova sostanziali che dimostrano questa cosa il concetto di fake news invece stabilisce una sorta di ehm categoria di categoria cioè di eh delle regole no? Allora esiste esistono le news normali e le fake news quindi nel momento in cui vengono nel momento in cui esiste una categoria di di notizie false questa categoria delle regole dei modi per scoprire in cui per cui queste notizie sono false e e come si fa a diciamo a regolamentare una cosa del genere? L'unico modo eh che è regolamentabile è e far sì che il controllo perché da qui viene il fact checking che è un altro che fa parte sempre di questa categoria qui il controllo avviene attraverso che cosa? Attraverso le uniche cose ufficiali che ci sono perché le cose ufficiali sono quelle che ti permettono di dire di dare un'oggettività alla cosa cioè la non diventa più una cosa soggettiva del giornalista che va a indagare ma diventa una cosa oggettiva riscontrabile da chiunque e l'unica cosa oggettiva riscontrabile da chiunque sono i documenti ufficiali cioè i documenti prodotti al potere stesso quindi il potere racconta una storia tu la smentisci attraverso un'inchiesta però tu diventi automaticamente un propagatore di fake news perché in base ai documenti ufficiali racconti un sacco di cavorate e da qui viene il mestiere di debunker che è un mestiere c'è gente che è pagata per un passato si chiamavano eh saprei infangatori di persone insomma calugnatori denigratori eccetera eccetera e oggi invece hanno un mestiere nobilissimo i debunkers i cacciatori di bufale e così via che sostanzialmente non fanno altro che eliminare il dissenso sono dei killer di altri giornalisti e quindi è proprio il concetto di io quando sento parlare di fake news ogni volta mi vengono mi mi è la pelle d'oca mi arrabbio insomma dentro di me perché vuol dire giocare nel 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 campo stabilito dal tuo nemico e non esistono esistono le false notizie fra l'altro ma non le fake news fra l'altro il tornando al concetto di complottisti all'etichetta di complottista usata prima e non c'è solamente l'effetto silenziatore no nel momento in cui parla uno l'altro non sente perché viene definito complottista a priori e quindi non va bene qualunque cosa dice non è non è non ha non ha valore ma anche effetto a livello personale cioè io ho capitato l'altro giorno di sentire un amico che non sentivo da tanto tempo ah ma allora tu sei complottista pum morte proprio dentro ho sentito la morte dentro la voglia di finire la telefonata il più presto e praticamente non lo più dovevamo risentirci per ragionarci non ci siamo più sentiti esattamente e si colpisce non l'informazione ma si colpisce la persona a prescindere e a questo si aggiungono gli altri due concetti che avevi elencato prima uno è una parola mente complottista una parola inventata di sana pianta e inserita nel vocabolario la parola negazionista e diciamo non dico è sempre esistita ma quantomeno esistita la seconda guerra mondiale in poi è un significato molto preciso vuol dire tu neghi l'olocausto quindi sei un nazista quindi sei una persona che non saprei che è meglio non frequentare ecco quindi ha un altro aspetto ancora è meglio non accompagnarsi a quella persona se ti avvicinano negazionista e ti fanno una foto insieme vieni squalificato per tutta la vita insomma non va bene come stare farsi la foto con un mafioso e e poi c'è l'altra cosa l'altro concetto è quello di terapia attista io racconto nel libro il la genesi di questo concetto di terapia attraverso un un giocatore videogiochi che è pagato da una di queste società di comunicazione che a un certo punto ha scritto un libro che racconta eh di del fatto che la terra fosse piatta in realtà sono è una teoria eh ripresa da 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 dei personaggi in ottocento che hanno raccontato queste cose più e più volte però sostanzialmente la cosa è diventata ehm come si dice oggi virale nel momento in cui questo personaggio oggi ha scritto questo libro oggi insomma alcuni anni fa ha scritto questo libro e ha aperto un sito internet ha raccontato cioè ha ha creato quello che si dice nel è una sorta di di comunicazione moderna è riuscito a bucare il il muro dell'informazione e perché perché improvvisamente ha tu gli è stato detto tu scrivi un libro assurdo perché dire che la terra è piatta è negare qualsiasi forma di scienza cioè proprio nemmeno la scienza copernicano galileiana cioè siamo proprio eh nemmeno nel medioevo un altro po' credeva o no credeva che la terra fosse piatta insomma però stiamo a quei livelli lì quindi neghi qualsiasi cosa cioè se una persona che non crede nemmeno nel nelle cose più banali nella matematica non saprei nella fisica in nulla no? Ma neanche scusami neanche nell'osservazione normale perché basta guardare il sole che cala e non è che si allontana diventa un puntino basta l'osservazione e il buon senso capito? Esattamente però quella quel libro è scritto veramente bene e eh e anche il sito internet sono tutte cose molto affascinanti e l'importante era trovare non lo so un numero x di persone qualche nel mondo siamo 7 miliardi e mezzo non si troveranno 10.000 persone pronte a credere a una cosa del genere allora eh magari per scherzo magari sul serio e allora eh una notizia del genere come accade sempre per notizie stravaganti no? È come dire un non lo so uno uno scimpanse che 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 occupa lo studio ovale della Casa Bianca no? Se 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 ci fosse una cosa del genere farebbe il giro del mondo un'immagine del genere allora un ehm una notizia del genere e sono quelle notizie curiose che eh che leggono in tantissimi che vedono in tantissimi e quindi molti giornali in giro con il mondo hanno incominciato a fare dei foto reportage o così via nei in questi club di terra piattissime magari sono quattro gatti e sono pochissimi club nel mondo ma non ha nessuna importanza l'importanza che nel mondo è incominciata a circolare l'idea che ci fossero esseri umani che credevano in questa cosa non nessuno sa esattamente quanti siano ma non ha nessuna importanza perché esistono queste persone e quindi esiste questa categoria e nel momento in cui esiste la la categoria non ci vuole nulla e come dire esiste la categoria dei complottisti non ci vuole nulla a dare del terra piattista a qualcuno e una volta ti hanno dato del terra piattista tu proprio non lì stai oltre non sei manco complottista sei sei oltre e il terra piattista è qualcosa che è uscito prima della pandemia adesso io non ovviamente non ho prove che il il termine sia stato creato in attesa della pandemia però diciamo qualche sospetto mi è venuto perché il tempismo è pazzesco se non altro è venuto molto comodo tra l'altro mi ricordo io che poi ovviamente c'è il giochino dell'associazione fra complottista e terra piattista io mi ricordo nel luglio del 2019 quando io ho misi online al cinquantenario degli allunaggi misi online il mio film american moon e per un po tutti ne parlarono perché era un film insomma che aveva destato un certo interesse bruno vespa il 20 di luglio il cinquantesimo dell'allunaggio andò in trasmissione credo da da sulla 7 a certo punto ovviamente la voce di american moon che c'era in giro se ne parlava se ne parlava da un mese se ne era parlato in rete dappertutto e allora mi sembra che fu telese che disse che vespa presentava un libro sugli allunaggi e telese gli disse ma c'è anche qualcuno che nega che siamo andati sulla luna senza fare il mio nome ma disse così c'è questa teoria in giro che e vespa rispose sì certo non siamo con le manine così ma certo non siamo andati sulla luna la terra è piatta eccetera eccetera e così si è liberato del problema è un metodo fantastico anche quello di associare appunto il peggiore di questi termini delle connotazioni negative per dare una connotazione negativa anche a tutti quelli che gli stanno sopra esattamente dunque a proposito di una cosa che non non sapevo ti confesso mi ha stupito la strage di timi sohara mai avvenuta eppure raccontata da centinaia di giornalisti presenti spiegaci quello è stato il capolavoro di chi costruisce le notizie allora 1989 tutti i paesi dell'europa dell'est sono avevano già rotto il legame con l'unione sovietica c'erano state rivoluzioni tutte quante pacifiche per la verità e c'era un punto però è ovvero il il comunismo che crolla no per quando c'è questa lotta che dura 40 anni tra bene e male perché così poi l'aveva posta ron reagan all'epoca e il comunismo che crolla deve crollare anche in maniera non può crollare semplicemente in maniera democratica perché se non tanto cattivi poi alla fine non sono no e allora bisognava fare qualcosa cioè diciamo chi aveva progettato questo crollo del comunismo e aveva lavorato per questo doveva mostrare il lato malvagio del comunismo e quindi serviva una carneficina allora rimaneva solamente la romania peraltro la romania dice a usescu che era il dittatore dell'est più amico dell'ovest era con era proprio tanto vero che quando ci furono le olimpiadi los angeles e tutto tutto il mondo comunista boicottò quelle olimpiadi la romania fu l'unico paese a partecipare perché erano era era proprio amico di tutti quanti i paesi dell'ovest stati uniti compresi però in quel caso lì non aveva nessuna importanza come abbiamo visto non avrebbe avuta nemmeno in iraq e in tanti altri posti allora iniziò questa diciamo rivolta con gente che scendeva per le strade ci fu qualche morto si sta parlando di qualche morto ma tutto iniziò da un da un sedicente viaggiatore cecoslovacco di cui non si è mai saputo il nome e questa è una di quelle cose quando non c'è il nome della persona che devono farvi pensare che la notizia non sia vera perché se non c'è il nome non è verificabile un sedicente viaggiatore cecoslovacco che usciva dalla romania e raccontò a un giornale a un giornale tedesco e del fatto che in romania in particolare a timisoara erano in corso era in corso un avvio un violentissimo scontro tra rivoluzionari e forze di sicurezza rumene che si stava trasformando in una carneficina si parlò addirittura di fosse comuni di cararmati per le strade e da questo primo racconto iniziarono altri racconti di altri sedicenti viaggiatori insomma cose che che riportano più che altro alle storie non so medievali oppure della dell'antichità no il viandante che racconta ecco e di eh di stragi e di di massacri a quel punto arrivarono a timisoara centinaia di giornalisti da tutto il mondo però con i titoli dei giornali nei giorni precedenti che avevano raccontato di un massacro quindi voi immaginate non so il new york times che arriva lì ha per quattro cinque giorni in seguito ha parlato di stragi di massacri di migliaia di morti non è che può dire guardate che vi abbiamo preso in giro quindi erano alla disperata ricerca di eh di qualcosa da mostrare e mostrarono le fotografie delle fosse comuni cioè c'erano del questi c'erano queste giganteschi fosse con tutta le persone gettate dentro che avevano che erano avevano la gola tagliata il la il ventre tagliato e così via e e quindi parlavano di torture al terrificanti di di squartamenti dopodiché eh cosa accadde che tutti quanti i giornalisti vengono fatti vennero fatti entrare in un albergo uno di questi grandi albergoni del dell'estero tipici dell'est Europa e ehm gli si gli si disse guardate che fuori c'è fuori sta avvenendo il finimondo quindi fate attenzione e soprattutto di di notte visto che di notte si combatteva in maniera dura non potete dormire nelle vostre stanze perché rischiate troppo dormite nel sottoscala va bene i giornalisti quindi dormivano in questi rifugi antiatomici sottoterra poi dopodiché uscivano la mattina e iniziavano le conferenze stampa era stata allestita una gigantesca sala dove si tenevano queste conferenze stampa e eh la conferenza stampa si teneva ogni ora se ne teneva una nuova in cui aggiornavano eh i giornalisti su quello che stava accadendo quindi loro avevano il tempo di partecipare alla conferenza stampa raccogliere notizie e poi comunicare queste notizie e poi ricominciava tutto quanto da capo questo andava avanti fino a notte e poi ritornavano nel sottoscala fatto sta che eh ovviamente chi teneva queste conferenze stampa erano i i rivoltosi i rivoluzionari e raccontavano ogni giorno di cose sempre peggiori si arrivò a dire che c'erano stati sessantamila morti in giro di pochissimi giorni quindi il mondo stava vivendo l'orrore di Timisoara ci fu un solo giornalista uno solo un giornalista italiano di un giornale che si chiama Brescia oggi che eh decise di partire per conto suo cioè eh ovviamente mandato dal giornale ma a spese sue perché voleva vedere la guerra voleva capire e arrivò a Timisoara e e visto che era un cane sciolto decise di andarsene in la città e andando in giro per la città vedeva che non c'erano vetri rotti non c'era sangue per terra non c'erano diciamo segni di cingoli che era armati non c'era nulla ma soprattutto non si sentivano spari era tutto tranquillo e allora scrisse un bel articolo dicendo ah qui a Timisoara tutto tutto tranquillo in realtà è stato un falso all'arma l'arma non è successo nulla quell'articolo non venne mai pubblicato lui fu richiamato a Brescia oggi e non fu più spedito da nessuna parte ma come ti permetti cioè tu vai lì anche se sono a spese due e non puoi farci fare una una figura di merda planetaria eh in questa maniera lì è in corso il più grande massacro della storia e quindi non puoi non non aver visto e non aver raccontato queste cose fatto sta che quella ehm quella diciamo vicenda si concluse con Ceausescu fucilato senza nemmeno passare attraverso un processo e un po' come accade accade con Gheddafi e ehm rimase questa cosa del massacro degli eroi rumeni che che avevano fatto questa rivoluzione ehm nonostante il bagno di sangue e così via i comunisti sono tanto cattivi eh dopo ehm qualche mese un giornale che si chiamava che si chiama Liberazione che era uno dei giornali che aveva mandato i suoi inviati che raccontavano quelle cose uscì con un uscì a tutta pagina eh con una sola notizia e l'intero giornale dentro era dedicato a questa notizia qui la il titolo era scusateci e il dentro c'erano le gli articoli degli inviati che Liberazione aveva mandato che raccontavano la vera storia di quello che accadde a Timisoara e tra le varie cose c'era un ehm l'intervista al ehm al custode del cimitero di Timisoara e questo qui pare che quando sono arrivati questi di Liberazione non non voleva più saperne i giornalisti c'è no no io non rilascio più dichiarazioni basta e questi dovettero convincerli misero del tempo per convincerlo alla fine ero convinso e lui raccontò dice scusate eh allora i qui sono venuti tutti i giornalisti del mondo io continuavo a spiegare che fosse comuni in questo cimitero non c'erano te lo dicevo in tutti i modi non ci sono forse comuni e questi dicevano no ci devi portare la forza comune e alla fine disperato lo portavo in questa specie di di spazio in cui si trovava effettivamente era un buco in cui venivano gettati eh questi i corpi di che cosa di chi di eh barboni eh di persone che morivano eh senza nome classici senza senza nome prostitute e così via e perché erano squartate perché gli veniva fatta l'autopsia a queste persone quindi erano aperte ricucite allora io vorrei capire chi ha fatto chi è stato lì i fotografi i cineoperatori il insomma i cameraman i giornalisti non si sono posti il problema ma se uno squarta qualcun altro in durante un interrogatorio poi lo va a ricucire e lo butto in una fossa comune cioè ma come ti viene in mente e lui disse io gli ho spiegato tutto a questi giornalisti nessuno voleva ascoltarmi e alla fine ci ho rinunciato ogni volta veniva un giornalista li portavo lì direttamente e gli facevo vedere la cosa perché non non ne avevo più di questa diciamo di questa fila interminabile giornalisti che mi chiedevano cose che non esistevano e come come gli interrogatori delle FBI che ti martellano talmente tanto che alla fine gli racconti quello che vogliono loro esattamente esattamente e loro avevano utilizzato questo sistema delle conferenze stampa continue e del bunker notturno per impedire ai giornalisti di uscire cioè di rendersi conto che effettivamente non stava accadendo nulla intorno e il meccanismo anche qui il meccanismo perché poi è sempre la limitazione non fare il fatto di fare una cosa differente agli altri che non va bene e il meccanismo in cui ti tiene incollato dentro una stanza non rendendo di conto che tu stai seguendo la propaganda di dei tizi che sia che appaiono lì in continuazione ti possono raccontare qualsiasi cosa e tu non verifichi mai nulla e che non vai via da quella stanza quindi non esci non esci per vedere le cose perché hai paura che gli altri che venga raccontato qualcosa di incredibile che gli altri poi eh possano raccontare i loro articoli i loro servizi televisivi e tutto lo perdi e quindi quello che in gergo giornalistico si chiama buco allora la la paura di prendere un buco è una delle cose che permette al potere di eh silenziare la stampa o quantomeno di controllarla quindi tutti devono stare nello stesso posto tutti devono sentire ascoltare le stesse cose e nessuno la cosa più importante è che nessuno non si perda nulla di quello che viene raccontato a costo anche di raccontare tutti la stessa storia peraltro falsa certo perché tra l'altro si supporta una vicenda poi cominci guarda dice quello della stampa l'ha scritto anche Repubblica l'ha scritto anche Corriere l'ha scritto anche L'Espresso quindi è chiaro che è vero si danno ragione a vicenda esattamente come fanno oggi io ogni tanto faccio l'esercizio di di vado a prendere apro contemporaneamente in sequenza la stampa Repubblica il Corriere e due o tre gazzettini e vedi che in effetti si controllano a vicende si adeguano a vicenda l'uno con l'altro e appena magari c'è uno che va un attimino fuori abbiamo scoperto varie volte che la notizia viene subito recuperata e viene subito rilivellata a livello degli altri c'è una cosa da dire a questo punto però che finché negli anni ottanta negli anni novanta c'erano ancora diversi giornalisti indipendenti allora appunto bisognava probabilmente andare a prenderli a minacciarli uno per uno o a convincerli con le buone con le cattive adesso che è tutto così livellato è facilissimo controllare perché basta uno che appena mette fuori la testa un attimo gli dai la martellata in testa subito sì esattamente esattamente senti c'è un altro passaggio diciamo un altro uso invece dell'informazione che ha avuto molto effetto ma sulla storia ma che è diverso da quelli precedenti il massacro di milai in vietnam e la perdita di virginità da parte degli stati uniti allora sì perché il vietnam è stata probabilmente l'ultima guerra in cui i reporter andavano potevano andare per conto loro tantissimi sono morti in quella guerra ed è un errore che gli stati uniti non hanno più fatto anzi hanno imparato molti la guerra di vietnam è stato fondamentale quello è stato un altro spartiacco dell'informazione ci fu un massacro da parte delle truppe dei soldati americani entrarono in un villaggio uccisero tutti in maniera orribile fecero quello che si chiama pulizia etnica cioè non rimase vivo nessuno in quel villaggio quella storia in realtà fu raccontata da un reporter ci furono anche le fotografie e quant'altro e però era talmente diciamo incredibile che nessun giornale la volle decise di riportarla per molto tempo finché a un certo punto non uscì e quando uscì fu un vero cazzotto nello stomaco della nei confronti della casa bianca perché si mostrava al pubblico statunitense e a tutto quanto il mondo che cos'era quella guerra non erano i buoni contro i cattivi comunisti era erano degli aggressori che facevano cose orribili no poi abbiamo scoperto anche il uso del napal il la gente del napal la gente orange e tutto quanto il resto tutto quello che facevano gli in vietnam e improvvisamente il popolo americano perso una virginità da quel punto vista cioè loro non erano più i buoni era la prima volta che per gli stessi cittadini statunitensi loro erano diventati cattivi perché hanno commesso un'atrocità spaventosa di quelle che venivano diciamo raccontate che erano state fatte nella seconda guerra mondiale dai nazisti o dai giapponesi e quindi quell'immagine lì quell'immagine che fece vincere il premio Pulitzer a chi raccontò quelle cose ma simon rush era stato no giornalista esattamente esattamente ma ovviamente misero in pessima luce l'operato delle forze armate americane da quel momento in poi non gli statunitensi fecero di tutto e poi riuscirono magnificamente a imbrigliare i media non facendogli più fare quello che volevano cioè da quel momento in poi o stavi ai loro regole andavi insieme a loro ti portavano loro ti mostravano le cose e decidevano loro che cosa potevi raccontare cosa non potevi raccontare roba che altro che censura di qualcuno e così via c'è una cosa mai vista o era così oppure non potevi assolutamente raccontare la guerra cioè non ti potevi proprio presentare nei luoghi di guerra e questo è lì che nasce l'idea del giornalista embedded cioè quello che sta ricucito vuol dire proprio embedded cioè sta cucito dentro le truppe stesse le quali ne controllano i movimenti e le comunicazioni oppure non ci può andare esattamente però non anche i non embedded per esempio io racconto nella prima guerra del golfo eh e anche nella seconda i giornalisti che si trovavano nella sala stampa eh messa in piedi dalle forze armate statunitensi e non potevano pubblicare quello che volevano dovevano pubblicare quello che gli veniva detto e e prima di mandare un articolo prima di fare un servizio anche televisivo tutto quanto veniva passato al vaglio della censura delle forze armate cioè dicevano questa cosa la puoi dire questa cosa non la puoi dire e la cosa incredibile che tutto che nessuno di questi giornalisti ha eh mai raccontato la cosa non ha mai detto io sto raccontando le cose sotto censura nessuno l'ha mai fatto cioè quella era la verità mentre invece non si potevano raccontare quello che che ti raccontavano gli iracheni perché se tu stavi in dal lato iracheno lì era censura quindi non si poteva raccontare nulla oppure veniva sempre specificato è censura irachena mentre gli iracheni non impedivano a nessuno di raccontare le cose in realtà e non c'era l'esatto contrario hanno ribaltato la realtà e tutti sono stati a quel gioco e ci sono giornalisti italiani che dopo la seconda guerra del golfo cioè dopo la guerra quella di di Bush figlio hanno scritto i libri ma solo qualche anno dopo in cui hanno detto dice in effetti noi non potevamo raccontare quello che volevamo però non hanno avuto il coraggio non hanno avuto il coraggio ce l'hanno detto quando oramai non gli fregava più niente a nessuno e probabilmente nessuno se ne è nemmeno accorto nessuno di loro ha avuto il coraggio di dirlo e farlo mentre i fatti stavano accadendo un altro esempio importante nella storia secondo me per capire anche bene il ruolo di condizioni livello di condizionamento dell'opinione pubblica è il caso della hill and nolton sempre per la prima guerra del golfo che cosa è successo esattamente io l'ho raccontato anche in in un capitolo del mio film il nuovo secolo americano la hill and nolton è un'altra di questa società di comunicazione di pubbliche relazioni come la rudder fin loro hanno sostanzialmente impacchettato la guerra la guerra fatta da iraq nei confronti del kuwait per spingere il pubblico statunitense e anche l'opinione pubblica occidentale a muovere guerra contro iraq come allora la gente dell'iraq non gliene poteva fregar di meno era lontanissimo non 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 aveva non aveva percezione che fosse realmente accaduto qualche cosa era semplicemente un paese uno dei tanti paesi che improvvisamente invadeva un altro paese loro cosa hanno fatto hanno creato le immagini perché le immagini fanno tutta la differenza del mondo tutta la differenza del mondo e vi faccio un esempio se 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 voi l'esempio tra per esempio una delle tante guerre irachene una delle due guerre mosse dagli stati uniti contro iraq e la guerra in ucraina le guerre che gli stati uniti hanno mosso all'iraq sono state corredate principalmente da immagini di ehm tratte dai droni o dai satelliti in cui si vedevano questi missili che si schiantavano contro delle fabbriche delle installazioni militare e cose del genere cose del tutto asettiche come vedere dei videogiochi le immagini della guerra in ucraina invece mostrano i cadaveri mostrano la gente che piange mostrano i bambini da soli che sembrano abbandonati peluche e così via cioè è un un tipo di informazione guardate che lì è in corso un orrore mentre invece in iraq non stava accadendo nulla anche se c'erano decine di migliaia se non anche di più di morti allora servivano le immagini quindi c'è stata questa società di pubbliche relazioni che nei suoi studi a hollywood ha creato quelle immagini ha creato le immagini dei cararmati iracheni che entravano a kuwait city e quindi si vedevano si vedeva questi cararmati che facevano tremare la terra e la gente che scappava e aveva paura in quel momento quindi hanno trasmesso un sentimento di paura alla al al popolo americano dicendo guardate che questa paura qui è una paura che potete sentire anche voi perché gli iracheni potrebbero entrare anche per le strade di san diego di los angeles con gli oro cararmati e poi il secondo punto era che questi iracheni si disse appunto queste queste notizie fantasmagoriche che diventano diciamo realtà perché passano per i giornali importanti si disse che loro erano entrati dentro il reparto neonatale dell'ospedale di kuwait city e si erano portati via i bambini anche dalle incubatrici si dissero che avevano staccato addirittura le spine delle incubatrici esattamente e mostrarono le immagini e mostrarono le immagini questa fu la cosa terrificante e poi scusa franco un attimo in quel caso lì ci fu poi la la cosa che scosse moltissimo gli americani fu la testimonianza della famosa infermiere del kuwait city si chiamava naira mi sembra non so che cosa che di racconto appunto piangi piangendo che aveva trovato le incubatrici con i bambini dentro morti con il filo staccato delle incubatrici è venuto poi fuori che era stata addestrata che era la figlia dell'ambasciatore kuwaitiano a washington e che era stata addestrata a recitare questa scena proprio come si addestrano gli attori proprio dalla hill esattamente esattamente per cui trasformarono una cosa che non fregava niente a nessuno totalmente asettica in un dramma sentimentale in cui tutti quanti gli americani tuttanto l'occidente si vennero coinvolti in qualche modo e quindi c'è un cattivo che ovviamente paragonato a hitler perché c'è sempre il cattivo che paragonato a hitler che bisogna abbattere in qualche modo prima che faccia altri danni ok senti è un'altra un'altra un altro di certo che uno si rende conto che con tutte queste invenzioni stavo vedendo adesso la lista che mi ero fatto la storia di jessica lynch le menzogne della guerra in bosnia la leggenda dei caschi bianchi poi vabbè vediamo anche i tempi più recenti la bufala della zoonosi eccetera eccetera voglio dire uno a un certo punto cosa fa deve dubitare di tutto perché non come fai a sapere se poi alla fine una cosa che cosa è vera cosa no è un problema fondamentale io di solito applico questa regola che ovviamente non è una regola tutta mia non è scientifica però alla quando c'è una guerra qualsiasi cosa mi è raccontata parto al dal concetto che non sia vera no e quindi devo trovare casomai le prove per cui è vera quella cosa e non il contrario secondo poi se una cosa viene raccontata dal da un soggetto di potere specialmente se è molto potente cioè più è potente più probabilmente è falsa perché i soggetti di potere sono in grado di manipolare qualsiasi cosa mentre invece se raccontata da un barbone che magari anche alcolizzato è più facile quella cosa lì sia vera dopodiché se il racconto viene fatto da da testimoni che non hanno un nome o un cognome o anche solo non hanno il cognome di solito non cioè non di solito è possibile che sia falsa perché non è riscontrabile no quindi come la vicenda del viandante cecoslovacco che usciva dalla romania e raccontava della strage di michoara no oppure magari c'è solamente il nome o tu mi giustifichi dice guarda io questa persona l'ho intervistata il nome e il cognome ce l'ho teoricamente potrei dare in qualsiasi momento ma proteggo questa persona perché è minacciata per qualsiasi motivo allora quella è un'altra questione ma raccontata in questa maniera probabilmente non è vera se se vengono fatte cifre cerco di andare col buon senso non non ci possono essere diecimila morti in un giorno in un luogo perché uccidere diecimila persone è una cosa complicatissima soprattutto fosse comuni alle diecimila persone non esistono se se si muove guerra a qualcuno e la stampa del paese che muove guerra incomincia a dire che il paese che deve essere invaso o si sta invadendo è un paese con un esercito potentissimo di solito non ci credo perché il modo per far per mettere le mani avanti per dire guardate è un quello ha un esercito potentissimo quindi è molto pericoloso e quindi è il motivo giusto per invadere questo paese soprattutto se io non avanzo con grande rapidità dovete comprendermi perché l'esercito è potente quindi non insomma oppone resistenza nei miei confronti e quindi è un po come insomma il diciamo che il buon senso secondo me esattamente in un senso è la logica legato a tutto se vedi che non c'è logica c'è qualcosa che non funziona perché se ti metti se hai solo la capacità di metterti dal punto di vista altrui vedi se dal suo punto di vista le azioni che fa hanno una logica oppure no se non ce l'hanno è chiaro che qualcuno te la sta raccontando esatto senti quando è nato storicamente tu hai tu fai risalire addirittura a a kennedy il il concetto di news management cioè del controllo dell'informazione il controllo della notizia dici e eisenhower era uno abbastanza come dire pane salame come personaggio invece arriva kennedy che era un giornalista che aveva il passato giornalista che conosceva il mondo dell'informazione e lì cambia tutto si cambia tutto perché è un diciamo una questione filosofica ma in realtà fondamentale i giornali e televisioni per uscire tutti i giorni hanno bisogno di informazioni di notizie non possono uscire telegiornale con una parte che già è nera e i giornali non possono uscire con i buchi bianchi nelle pagine e quindi hanno bisogno di informazioni o è normalmente queste informazioni se le vanno a cercare allora qual è l'idea è quella di non impedire ai giornalisti cercare le informazioni ma di fornirgliele direttamente se le notizie te le fornisco io tu non ne vai a cercare perché già ce l'hai e quindi io decido cosa fornirti ti do io l'accesso vuoi vedere una cosa ti faccio vedere io vuoi avere uno scoop te lo faccio avere io vuoi avere la foto figa di quelle che fa nel giro del mondo te la faccio te la costruisco io quella foto esattamente mi veniva in mente ti fornisco addirittura l'assassino il caso di oswald che tu descrivi nella nel tuo libro cioè kennedy viene ucciso alle gli sparano alle 12 e 25 mi sembra muore a luna all'ospedale alle 4 c'era già la foto o le 5 non so quanto c'era già la foto non del presunto assassino ma dell'assassino di oswald sul new york times esattamente e immaginate quante non c'era internet all'epoca quindi vuol dire questa foto era arrivata prima non dico prima dell'assassino ma poco ci manca in al giornale per poter poi essere pubblicata no pare addirittura che uver avesse il capo delle febbraio avesse già preparato tutto prima questo detto tutto prima sì però dico ai giornali per essere pubblicata all'epoca dopo solo tre ore vuol dire che perché andava lavorata stampato andava in rotazione c'era tutta una serie di tempistiche no che facevano sì che quella foto probabilmente sarà consegnata prima ancora dell'assassino ai giornali va bene senti chiudiamola qui e ovviamente lo ripeto è un libro veramente interessante anche io lo tengo anche come ripasso storico di un sacco di cose che sapevo male o sapevo poco come si può ordinarlo allora si può ordinarlo sempre al solito modo cioè attraverso solo attraverso il mio la mia email personale non c'è altro modo per averlo la mia email personale franco fracassi uno a numero chioccio a gmail.com franco fracassi uno chioccio a gmail.com e la voi mi scrivete e dopodiché io vi spiegherò come fare ad averlo quanto costa e i tempi per averlo e tutto quanto il resto però dovete passare appunto scrivendomi alla mia email personale cosa è la cassa il tesoro insomma scrivi poi ti spiego cosa devi fare poi vai qui poi vai là eccetera eccetera bello completamente completamente antitetico ai tempi di adesso franco ti ringrazio e spero e credo che ci vedremo presto per la tua prossima opera arrivederci ciao grazie ciao ciao a tutti